E tutti questi fuoristrada in movimento. Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglio. Forse ci potrà dire se qualcuno che si è fatto tagliare i capelli di recente aveva dei rametti attaccati ai vestiti. Bravo, ottima idea, Sandrino. Suoniamo di più. Sì, ma cosa? Io un ballo posto lo farei. Qui Cirillo per le ultimissime notizie da Sgombonia. Sandrino e la sua squadra hanno appena risolto il mistero delle ciliegie cadute. Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Beh, non credo che voglia farci passare. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.